Nuovo appuntamento con il Teatro per le Famiglie alle Fornaci di Terra Nuova nel pomeriggio di domenica 22 gennaio alle 17 arriva l'ode alla vita della compagnia Rodisio ovvero il duo Manuela Capece e Davide Doro che in scena rivivranno tutte le singole stagioni di ogni esistenza. Domenica 22 alle ore 17 alle Fornaci con la rassegna di Fusioni Kids che continua appunto la rassegna dedicata al Teatro Contemporaneo per Famiglie con uno spettacolo molto particolare Ode alla vita della compagnia Rodisio. La compagnia Rodisio è una compagnia molto importante che lavora da anni su questo tipo di linguaggi e su questo target ovvero le famiglie e i bambini e il suo lavoro è un lavoro molto delicato ed è un inno alla vita, un inno all'importanza, sul dare l'importanza alle piccole cose. È un progetto molto particolare con un linguaggio molto raffinato che esploderà nel finale con un'autentica festa. L'ingresso con biglietto unico ha un costo di 5 euro.